andiamo a goderci questo potto lame per chi non conoscesse il gioco in questo gioco noi abbiamo questo piccolo demonio che non ci lascia scappare sembra la trama di paranormal activity in altro po dovete darmi un feedback del volume quindi dobbiamo rifare tutta sta parte che palle no arriva pure Ale così a cazzo duro ma non l'avevi già fatta sto mese punnetto si è disagiato è l'ugri 92 questo è Ale quando arriva e fa la sub dai sembra un alien cavolo fallo verde ed un alien come stai Ale tutto a post grazie dei 33 mesi gli si vuole bene Ale c'è Luisana che sta chiedendo un treno per prendersi il capotreno tu che dici lo puoi prendere serve l'ulino? no ok cazzo fai che compari devo fare le foto se vuoi tu il capotreno e tocca fare un evento si letteralmente beh tocca dare bitosato devi tirarmi sopra i dini no nel senso no questa parte l'abbiamo già fatta la scorsa volta il fiore sembra morto come no basta battute ecco la cosa che non avevo capito è come faccio cosa devo fare con quella pianta praticamente con le foto noi torniamo indietro nel tempio vai pia aggiungi la gente alla vasca let's go riempi il calderone allora il verde col rosso dai la pappa che cosa è successo è un blocco di cemento è un blocco di cemento andiamo fammi vedere che mi devi mostrare sembrava Bear Grylls in una puntata in cui ha una reazione allergica alle api oh ah ok devo portare lui beh possiamo fare tutto ma ma non dura nemmeno il tempo che ma dai non c'è ciao Harrison cos'è questo brobbio questo è il nostro figlio sì ma non c'è arriva si trasforma ma lo fa apposta ma lo fa apposta nooo poverino nooo poverino ma vedi ma ma ce lo porto di là ma ah 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 Wow Beh Per me puoi rimanere là Non vorrei dire Nell'epoca degli spartani Prendevano i pottolami E li gettavano dal monte Per testare la loro capabilità Fine del gioco Ma Una palla Eh ma dovrei forse spostarlo Aspetta ho un'idea Per forza Secondo me si può ammettere Dai vieni qua Niente lo devo beccare Ma Bastardo Easy Andiamo Andiamo Dai Dammi l'ingrediente Buon anno Era così facile Fermare i bambini Cazzato Cazzato Oh 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 Ha una rossa di Zelda Oh È Aletissi Bersac Oh oh Che Grazie a tutti.